Il presidente della Repubblica, Giorgio Lacoitano, che ha di tornare dopo una settimana in Cina, e l'ultima capo a Londra, si è soffermato sull'odo a proposito dell'emendamento presentato dalla maggioranza nella commissione a fare costituzione di Stato. Quanti anni hai? Il capo del Stato, che ha di tornare alla sospensione automatica prevista dalla legge al Fano, che io promulgare. Davide, quanti anni hai? Uno. Bravo. Come ti chiami? Davide. Bravo. Siamo in diretta con il nostro Lorenzo Montezzi le richieste del mondo delle imprese e le risposte della politica. Qui da Cappi, come chi giusta, ribadisce il suo no a ipotesi di elezioni anticipate, perché in questo momento sarebbe molto complicato. L'Italia ha detto che il Presidente della Repubblica è una mancicata. Ha bisogno di sedi e tanti. Mangia un servizio, eh? Un servizio, un servizio, un servizio, un servizio, un servizio, un servizio, un servizio. Il Paese è sostanzialmente in preda a una paradisi, perché a parte quale iniziativa singola e quale ministro, però l'azione del governo non c'è. Io ho quasi finito. Come possiamo eleggere il Presidente della Costo, il Paese è in una stessa di paradisi, in un momento difficilissimo dell'economia. Ooooooooh!